Allora signori, io vi porgo i miei sentiti saluti per questa serata, per la quale sono un conduttore improvvisato perché purtroppo la conduttrice ufficiale Teresa Scappaviva ha avuto un problema di salute per cui si è dovuta recuperare in ospedale e quindi la serata è priva di una presentatrice adeguata alla stessa ricorrenza ma doveva essere questa sera messa in atto una commedia della sua compagnia per la quale lei era l'attrice principale quindi ci mancherà sia come presentatrice sia come attrice principale di una commedia che questa sera non verrà messa in atto un applauso a Teresa Scappaviva di Bronte a Guarigioni, speriamo che stia presto con noi e come abbiamo tentato di mettere, come si suol dire, una pezza faremo le premiazioni delle varie categorie e infine in sostituzione di quella compagnia che doveva esibirsi questa sera la serata sarà aglietata da un gruppetto di ragazzi che suoneranno la pizzica e quindi daranno un colore diverso e spero piacevole alla serata iniziamo quindi la manifestazione che è quella della premiazione di tutte le categorie che hanno partecipato a questo premio, al premio Leuca io però prima inviterei sul palco il presidente che è qui sulla mia destra Vincenzo Corina, il dottor Vincenzo Corina del prologo di Santa Maria di Leuca e era anche in programma il saluto del sindaco ma il sindaco anche lui sta poco bene per cui chiede scusa di questa sua assenza e verrà adeguatamente sostituito dalla signora Cassa Fizzolante Assessore al Comune Castregnano del Campo io li invito per quel saluto iniziale che è toveroso nei vostri confronti e nei confronti della serata allora Presidente vi porgo prima il microfono cortesamente allora vi porgo il microfono perché possiate ecco Presidente, a lei la parola grazie Gabriele e buonasera a tutti siamo arrivati alla conclusione di questa tredicesima edizione del premio Leuca anno 2023 un piccolo escursus questa edizione ci ha particolarmente entusiasmati più delle altre perché al concorso come dicevamo e come abbiamo detto in altre sere si sono proposte a partecipare a diverse compagnie del tutto Italia per cui la scelta è stata molto ma molto faticosa perché avevamo solamente un budget di nove compagnie la decima era quella di questa sera che doveva concludere fuori concorso la premiazione sapete com'è andata ringraziamo la rappresentanza di quelle compagnie che sono sedute qui di fronte a noi e con orgoglio devo dire che vengono da lontano e sono qui ad assistere alla premiazione e a gustare un po' del nostro salento, di quello che noi possiamo loro offrire per cui ha anche uno scopo promozionale del nostro territorio queste edizioni che facciamo di teatro e del premio Leuca vorrei ricordarvi che però le nostre iniziative scusate se lo dico subito altrimenti alla fine forse me ne dimentico le nostre iniziative continuano con il 6 settembre la festa dell'anniversario del 157esimo anniversario dell'accensione delle lanterne del faro è una giornata dedicata al faro dove questo l'ho saputo oggi 50 ragazzi delle scuole vicino all'Euca si cimenteranno in una estemporanea di pittura e saranno poi distribuiti tre premi a fine giornata quindi vedremo sul faro questi ragazzi seguiti dal professore Davide Cortella che li coordinerà disegnare, colorare oggetti o meglio paesaggi che riguardano il faro ed intorni poi ci sarà la salita sul faro ma le prenotazioni sono ormai chiuse partirà un convegno tenuto dai comandanti di Marifari di Napoli principalmente e di Taranto più del professore Carlone poi ci sarà un piccolo fuoco d'artificio il taglio della torta e per spettacolo particolare abbiamo previsto un cantante, un tenore che dovrebbe, se tutto va bene, il condizionale è d'obbligo dovrebbe cantare sul piazzale del santuario va bene ma c'è una sorpresa e non l'ho detto speriamo che riusciamo a farla mentre il 10 settembre su questa piazza e vi invito a partecipare ci sarà la commemorazione Gabriele poi non voglio parlare sempre io la commemorazione del fondamento della corazzata Roma dove sono caduti e sono morti diversi marinai della nostra regione e del nostro Salento e mi fermo qui passo subito la parola all'assessore Katia che degnamente rappresenterà questa sera l'amministrazione e sostituisce il sindaco Katia grazie presidente buonasera a tutti ci ritroviamo qui come all'inizio anche alla fine in rappresentazione dell'amministrazione di Castrignano del Capo per porgervi i saluti del sindaco che purtroppo anche lui per motivi di salute non può essere qui con noi questa sera i ringraziamenti sono doverosi innanzitutto alla Proloco di Leuca a tutti i volontari, a tutte le compagnie che hanno partecipato e si sono spostati non poco per essere qui a Leuca a tutti gli spettatori che anche se non sono stata presente purtroppo a tutte le serate so che sono stati veramente tanti ho potuto partecipare solo alle prime due serate poi per motivi di lavoro l'orario insomma non mi è proprio congeniale però so che sono state tutte partecipatissime e tutti erano molto entusiasti insomma me ne hanno raccontato in maniera piacevole insomma di queste serate e niente non voglio togliere molto tempo sono molto dispiaciuta per l'assenza appunto oggi della rappresentazione che doveva esserci perché anche come assessore alle pari opportunità so che il tema insomma era vicino alla violenza sulle donne quindi Teresa mi aveva invitata già alla prima serata ci aveva tenuto a dirmi di questa ultima serata e rappresentazione insieme alla premiazione spero anzi spero che si possa fare in modo di portarla comunque qui sul territorio di Castrignano del Capo un impegno da assessore appunto magari a cercare di organizzare un'eventuale serata insomma anche più avanti per poter vedere questa rappresentazione e niente ringrazio tutti vi porto ancora i saluti del sindaco e vi auguro una buona serata grazie assessore allora spengo questo microfono così evitiamo interferenze e ci addentriamo nel cuore della serata e della manifestazione mi piacerebbe dire dal teatro attico greco di Santa Maria di Leuca ancora non è così ma mi dicono che c'è un progetto per rendere più fruibile questo luogo proprio dedicato a queste manifestazioni a questi eventi e allora entriamo nel vivo della serata viene premiata a questo punto l'attrice più giovane l'attrice più giovane a giudizio della giuria è Falagario Chiara con la commedia Deja Vu della compagnia della Lira di Casa Massima un applauso e quindi se è presente ma credo proprio di sì invito a salire sul palco l'attrice Chiara Falagario invito anche sul palco la professoressa Chiara Vattaggiato che premia che premierà tirà prima la motivazione e successivamente premierà qui ci dobbiamo mettere qui perché la luminosità ci permette prego professoressa allora leggerà la motivazione con la quale è stato assegnato il premio all'attrice più giovane la giuria ha ritenuto di dare il premio di questo riconoscimento all'attrice più giovane prego professoressa grazie ringrazio tutti veramente per questa opportunità di far parte della giuria innanzitutto premio a Leuca veramente pregevole il lavoro della giuria e della professoressa Angela Perrucca che anche lei malata ma è presidente della giuria un applauso ad Angela alla professoressa Angela che veramente insieme a Teresa e insieme a tutti voi sono stati l'anima di questa manifestazione allora Chiara abbiamo lo stesso nome allora per la sua brillante interpretazione e per aver regalato con genuina ed efficace e semplicità il ritratto di una ragazza alle prese con dubbi e naturalmente è lo specchio della sua generazione è stato bello vedere come con tanta spontaneità e allegria ci abbia donato questo spettacolo questa performance teatrale grazie allora la signora Cleopatra porterà il premio che verrà consegnato ecco qui grazie grazie un applauso grazie professoressa secondo secondo premio un secondo riconoscimento premio alla migliore interpretazione all'attore Cosimo Sant'Angelo con la comedia non mi dire te l'ho detto della compagnia PMS di Barcellona posso di conto Messina e invito a salire sul palco il regista che so che c'è signor Pippo Bucca prego la motivazione verrà letta dalla signor Pietro Spiga facente parte della giuria che invito sul palco e richiamo l'assessore Katia Pizzolanti che dovrà materialmente consegnare il premio al vincitore prego ah ecco il signor il vincitore allora questo è il microfono per la lettura della motivazione premio migliore interpretazione Cosimo Sant'Angelo nella commedia non mi dire te l'ho detto interpreta un testo molto ricco di battute e situazioni equivoche con uno stile personale ed una gestualità che riescono ad esprimere la verba dell'artista senza scadere nella volgarità anche quando lo spettacolo procede con un crescendo divertente di gex piuttosto o se grazie il premio grazie assessore grazie 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 gentissimo terza fase terza fascia premio ai migliori costumi e vince questo premio la commedia Hotel Punta Rotoli della compagnia Arete di Grottaglie provincia di Taranto invito a salire gli attori della compagnia quelli che sono presenti se c'è qualcuno prego 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 accomodate la motivazione verrà letta dalla professoressa Chiara Vantaggiato e premia il consigliere Angelo Pirelli prego questo è il posto da vincitrici in evidenza motivazione premio migliori costumi per aver permesso allo spettatore di tuffarsi nella magica atmosfera degli anni venti grazie al sapiente lavoro di ricerca e alla cura nella confezione degli abiti che sappiamo essere stati realizzati da voi grazie il premio viene consegnato da Angelo Pirelli a consigliere della presenza di Castrignano Angelo Pirelli è un unico premio quindi viene consegnato simbolicamente alla rappresentante della compagnia grazie a voi di aver partecipato a questa grazie a tutti grazie quarto premio il quarto premio riguarda la migliore scenografia e la vince la commedia déjà vu della compagnia della lira di Casa Massima Anche qui invito se c'è presente qualcuno della compagnia è presente è presente e invito anche a salire io mi scuso ma non sapevo di questo la professoressa è vantaggiato quindi deve rimanere qui e l'invito sul palco il consigliere delegato per l'euga signor Oronzo Papa che premierà materialmente i vinciti era presente c'è 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 per la motivazione un attimo ok déjà vu premio migliore scenografia per aver portato all'attenzione del pubblico elementi simbolici della tradizione e della cultura mediterranea ed in particolare di quella greca e salentina così offrendo un apprezzabile messaggio di contaminazione culturale tutta mediterranea che vuole essere un forte messaggio di riscoperta di radici comuni grazie 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 il premio il consigliere Rocino Papa consigliere delegato a Santa Maria grazie benissimo non devi rimanere adesso premio per la migliore attrice lo vince Lidia Cuccovillo con la commedia La Locantiera 2.0 della compagnia Scene di Bari se c'è la signora Cuccovillo o c'è qualcuno per lei con questo fa c'è qualcuno per la signora sono io per solo la motivazione viene eletta dall'avvocato Mimmo Frigelli e premia il signor Vito Vergine che è il delegato Uppli che è l'Unione Nazionale delle Prologo d'Italia per la zona del Capo di Legna prego Vito Buonasera a tutti Motivazione miglior attrice con competenza arte e padronanza con cui l'attrice gestisce le diverse situazioni Lidia Cuccovillo offre una personale interpretazione del personaggio di Mirandolina dando brio all'intero spettacolo che si arricchisce di humor e di senso per il Gardo Grazie a voi Grazie Ciao Vito Premio per il miglior attore va a Brian Torres con la compagnia Art con la commedia Art chiedo scusa della compagnia La Grinca di Taranto invito qualche rappresentante o l'attore stesso non lo so qui è presente? è presente? l'attore è assente è assente ma è presente il regista è l'anima della commedia quindi la motivazione verrà letta dal professor Oronzino Russo che invito sul palco e premia il signor Fido Vergine che impropriamente è andato lì e deve risalire prego quando vuole? posso sì quando vuole? stavo pensando stavo da dentro non ho capito per quale motivo sei stato tu che mi hai va bene allora Brian Torres è il protagonista dello spettacolo Art nel quale come nella favola di Andersen qualcuno tenta di gridare il re è nudo Brian Torres offre una briosa rappresentazione tra il comico ed il drammatico della difficoltà che ciascuno di noi può incontrare nel tentativo di demolire gli stereotipi culturali dominanti grazie 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 il premio viene consegnato dal signor Vito Vergine sempre rappresentante dell'Upli per il capo di l'Evola grazie 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 a tutti professore grazie Questo premio, che è il premio per la miglior regia, ha avuto questa avventura nel senso che sono due compagnie che hanno ottenuto lo stesso punteggio, per cui c'è una posizione di ex-equo. E per la miglior regia viene premiata Giuseppina Nigro con la commedia Hotel Punta Rotoli della compagnia Arete di Grottaglie, e a pari medito Alessandro Iacovelli con la commedia Déjà Vu della compagnia della Lira di Casamassimo a parte. Prego, invito sul palco i rappresentanti delle due compagnie, prego, e legge la motivazione la professoressa, chiaro, vantaggiato, e c'è una modifica nell'ultimo momento perché non sapevamo che il sindaco fosse colpito da una malattia, sia pure lieve, e quindi il sindaco non ci sarà, e quindi invece del sindaco io invito la signora Catea Pizzolante, l'assessore Catea Pizzolante che invece del sindaco premierà e consegnerà il premio a Giuseppina Nigro e Alessandro Iacovelli, mentre la motivazione verrà letta dalla professoressa Chiara, vantaggiato, a cui do il microfono. Grande responsabilità questa sera. Allora, cominciamo con il premio Grazie alla regia a Giuseppina Nigro. Nella messa in scena e nella regia di un musical come Hotel Punta Riso Rotoli, Giuseppina Nigro ha affermato la sua passione e la sua professionalità, dando prova di grande abilità nella gestione delle molteplici e complesse componenti. La recitazione, il canto e la musica, il numero straordinario dei personaggi, i costumi dell'epoca, la scenografia, e ha saputo realizzare uno spettacolo di grande effetto. Graditissimo dal pubblico. Grazie. Vado a leggere l'altra motivazione, perché appunto il premio della regia ed ex ex aequo a Deja Vu, in particolare grazie al giovenissimo Alessandro Iacovelli, che ha saputo ben scandire i tempi scenici. L'umoro e la caratterizzazione dei personaggi fanno scorrere lo spettacolo senza pause, coinvolgendo lo spettatore in un clima di spensieratezza. Grazie all'alternanza di canto, effetti scenici, recitazione, ha donato una grande emozione a tutti gli spettatori. Grazie a voi, siamo alle battute finali, per le quali io invito sul palco il presidente della Proloco, il dottor Vincenzo Corina, e il sindaco che, come chi fa le veci del sindaco, sempre la signora Catea Pizzolante, assessora. Siamo quindi, alla fine di questo nostro cammino, una tela bianca incorniciata. La penna della scrittrice francese Yasmina Reza, in questa commedia, ci ha dato un ritratto amaro della società. Fizioni, silenzi, cose non dette, che costringono ognuno di noi a scavare nell'anima, mettendo in crisi rapporti come l'amicizia che lega i personaggi. Quest'opera, tradotta in trenta lingue, vincitrice del premio Molière e del premio Tony Howard come migliore spettacolo, la compagnia che vince il premio, con questa commedia che si chiama Art, di Yasmina Reza e la compagnia La Cricca di Taranto. E il dito a salire sul palco, il premio Molière, Alton Limpere, la compagnia che si chiama Art, e la compagnia che l'ha messa in spettacolo è La Cricca di Taranto. E abbiamo l'onore di avere il regista vincitore che chiaramente vorrà qualche parola, spendere qualche parola. Sono contentissimo per i ragazzi, per Brian, per Jonathan, per Peppe, che ci hanno messo a tutta, mi hanno eseguito in questa operazione. E io questo spettacolo lo avevo già fatto nel 2000 al femminile, è nato al baschile, poi io l'ho fatta femminile e poi l'ho riportata dopo 23 anni al baschile, avendo avuto la possibilità di trovarmi con tre attori bravissimi che mi hanno, ripeto, seguito e hanno portato questo spettacolo che andrà il 7 di ottobre a Pordenone e l'11 di novembre a Mantova. Quindi avremo ancora, poi per varie circostanze ci fermeremo un attimo per Natale, poi Dio vedrà. grazie comunque anche perché questo premio qui a Santa Maria dell'Euca è un ottimo risultato per la compagnia in quanto viene da un gruppo di compagnie che conosco, che sono molto brave e quindi vincere è ancora più soddisfacente. Grazie. E quindi la pubblicazione verrà letta dalla professoressa che ha accacciato e il premio verrà conferito dal presidente della Proloquo in rappresentanza della Banca Popolare Pugliese che ha voluto partecipare anche a questa manifestazione in maniera molto sostanziosa. Ecco, dobbiamo dirle certe cose in maniera molto generosa e sostanziosa. Prego, professoressa. Grazie, Avvocato Varasco anche se buona parte della motivazione è stata forse anticipata nell'introduzione. Il testo ricco di significato e non facile da interpretare mette in evidenza i problemi di comunicazione tra persone che hanno punti di vista diversi. Lo spettacolo riesce attraverso la metafora del quadro a far cogliere il necessario ma non facile ruolo di mediazione dell'amicizia il cui valore e la cui forza aiuta a superare i contrasti. Spettacolo pregevole anche per la scenografia e la regia condotta con padronanza ed efficacia. grazie. Premia sia l'assessore che l'attestato rilasciato dal consegnato meglio dal presidente dell'Apro dottor Vincenzo Corina a nome della Banca Popola di Frigliese prego leggo un attimo rassegna di teatro prima leuca tredicesima edizione abbiamo il piacere di consegnare il primo premio consistente nella somma di mille euro alla compagnia vincitrice La Grecca di Taranto che ha composto lo spettacolo art di Giasmina Reza la somma sarà nonificata lunedì 4 settembre direttamente così è stato voluto dalla Banca Popolare Apogliese che ha voluto fortemente sponsorizzare il primo premio grazie complimenti per questo aiuto alla compagnia che come tutte le compagnie patoriali hanno bisogno di questo incentivo e di questa ulteriore forza economica perché per spostarci ci vogliono ci vogliono soldi bisogna affettare i furgoni pagare i tecnici per quanto riguarda le luci bisogna pagare la SIAE abbiamo parecchie spese e voi grazie a voi riuscire a passare un po' più tranquilli per i prossimi mesi grazie grazie a voi prima di chiudere solo una parola è vero e voglio sottolineare le compagnie che le nove compagnie che hanno partecipato a questa rassegna sono state veramente delle compagnie brave eccellenti la scelta della giuria è stata veramente difficile però alla fine bisognava scegliere e credo che sia stata la scelta giusta anche se dolorosa ma ripetiamo le compagnie che hanno partecipato come è stato già detto sono compagnie di un certo livello grazie a loro soprattutto a loro aggiungo una parola presidente mi permetto penso che abbia vinto lo spirito di accoglienza di Santa Maria di Leuca la vostra capacità di accogliere le compagnie e anche la festa della famiglia perché nel pubblico avvocato c'erano i nipoti i nonni i papà le mamme e anche adesso e questo è veramente bellissimo fare cultura fare cultura tutti insieme riprendere la voglia di teatro dopo il covid non apprezzo grazie 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 finisce qui il nostro cammino di corosso della prologo di cui faccio parte della prologo di Santa Maria di Leuca un cammino insidioso perché si propone a vasto pubblico uno spaccato dell'arte particolare come quella del teatro spero che questo sforzo sia andato a buon fine che abbiate apprezzato veramente quanto nel nostro piccolo siamo riusciti a realizzare con l'aiuto di tutti con molto sacrificio ma credo che alla fine qualcosa di buono ne è venuto fuori e quindi io vi chiedo di fare un grosso applauso alla prologo di Santa Maria di Leuca e a tutti coloro che hanno collaborato in questa fatica mi corre l'obbligo ovviamente di salutare la giuria perché la giuria è quella che compone il fulcro della decisione e del finale che stabilisce chi vincerà la contesa saluto quindi e ringrazio come componenti della giuria la professoressa Angela Perucca la professoressa Chiara Vantaggiato il dottor Pietro Spiga l'avvocato Mimmo Frigelli la professoressa Maria Sutta Rizzello il professor Oronzo Russo il professor Antonio Romano che insieme a Teresa Scappaviva hanno avuto piacevole ma nello stesso tempo ingrato compito di fare la cernita di 40 opere e quindi di tagliare quelle che non potevano non potevano ma non perché vi era una carenza di professionalità o di spessore dell'opera ma perché le forze della Prologo di Leuca consentivano solo una decina di rappresentazioni e non più di tanto e quindi sia il professor Romano che Teresa Scappaviva hanno passato hanno speso un sacco di tempo per poter proprio cercare di una cernita per pescare le migliori opere e credo che ci siano riusciti quindi facciamo un grande applauso e Antonio Romano è di nuovo a Teresa Scappaviva e infine ma non infine ovviamente la professoressa Sara Piscitelli ripeto che fa parte della giuria ma ci sono stati anche i supplenti così come io stasera sono un supplente una ruota di scorta perché purtroppo ci sono degli imprevisti e gli imprevisti devono essere poi attutiti e attenuati e quindi i giudici supplenti sono la signora Ida Vitali professoressa Ida Vitali Lia Scappaviva Gianfranco Chiave e poi uno che non conosco Gabriele Malasco non so chi sia ma c'ero pure Lazio e bene non mi faccio mancare niente per questo non mi faccio mancare niente allora signore noi siamo alle battute finali io invito di nuovo il presidente ma brevemente solo per quei ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso la riuscita della serata parlo degli sponsor perché c'è stato un aiuto un piccolo aiuto da parte di tante attività commerciali di Alba e grazie a loro abbiamo potuto realizzare la serata Vincenzo se ritieni fare un ringraziamento se no possiamo possiamo chiudere ma diciamo la serata istituzionale perché dopo c'è uno spaccato più divertente di musica etnica locale della pizzica con la quale io vi pregherì di rimanere e magari di partecipare attivamente ai balle e al divertimento prego compito di ringraziare tutto il direttivo della Prologo Leuca che ha sostenuto questa iniziativa compito in grado perché se faccio come farò dei nomi finisce che qualcuno viene dimenticato purtroppo però a questo punto ringrazio anche io voglio ringraziare Gabriele Marasco la carissima Cleopatra Bucarello Michele Denuccio Vito Vallo Dario Arnò voglio ringraziare anche se così un po' di di cattiveria di omertà c'è nel discorso ma io non voglio che faccia il mio nome Maria Rita Colaci grazie Maria Rita e poi perché non avete abbattuto le mani a Gabriele e grazie anche a tutti i soci della Prologo che ognuno per la loro competenza per la loro disponibilità perché siamo tutti volontari in un modo o nell'altro hanno aiutato questa manifestazione grazie e quindi finiamo con mi collego a quanto non vorrei essere ripetitivo su quelle iniziative future e prossime della Prologo ma ci teniamo in maniera particolare perché sono delle iniziative molto 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 di grande spessore cioè quella del 157esimo anniversario del Faro sarà una bellissima manifestazione ma soprattutto quella del 10 settembre con la quale si ripercorrerà quel triste periodo dell'armistizio che portò poi successivamente all'affondamento della Roma con 1350 italiani morti 600 subestiti moltissimi dei quali del Basso Salento e avremo molte famiglie sia dei subestiti che dei caduti in quell'avvenimento luttuoso avremo l'onore di averli qui fra di noi e verrà consegnata anche una pergamena riporto quindi queste sono le due scadenze importanti che la Prologo ci è data oltre ovviamente a questo Signore questa è la Prologo di lei abbiamo fatto il possibile abbiamo avuto le nostre piccole soddisfazioni e vi ringraziamo adesso c'è la fase più non più piacevole ma quella dedicata alla musicalità della serata il gruppo di giovani locali si chiamano di allenismo alla serata perché ripeto il teatro greco di Leuca quindi loro sarebbero gli emeis utis se dovessimo usare il greco antico sono noi e ci così si chiamano e quindi li inviterei sul palco a poterci rallegrare con la con la nostra musica etnica che viene apprezzata in ogni parte d'Italia e in ogni parte del mondo grazie a voi mi lascio con lui Gesù grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.